31 marzo 2017, segnatevi questa data. Vi aspetto per la presentazione live di Risveglio, il mio primo album solista. Di che si tratta? È un disco fatto di storie e di vita, di note, accordi e parole dentro un lungo viaggio di ricerca. Sono stati momenti irripetibili nei quali le canzoni hanno preso forma, dettando le regole di un gioco nuovo. Si sono spogliate, fino ad esprimere la propria essenza. Ora sono pronte per essere offerte a voi. Vi aspetto, non mancate. Niente ma, niente in sé, fanno una scelta. Fai la tua scelta. E tu mi sentirai nella voce del vento a settembre. E tu mi cercherai quando vedrai cadere le foglie. Ciao! Grazie a tutti.